E' vero pieno di gente. Perchè avete occupato la sede del partito? Perché è da più di due mesi che chiediamo l'incontro al Ministro del Lavoro, Orlando, e non ci risponde. Noi siamo i lavoratori della TNT FedEx di Piacenza, 350 lavoratori, di cui la multinazionale ha buttato fuori da un giorno all'anno. Un'occupazione del partito? No, no, no. Davanti a voi, però cercare di ottenere oggi stesso un appuntamento di incontro. Potrebbe essere in ballo qualche centinaia di posti di lavoro, fino a 4-500 e anche più posti di lavoro. Noi siamo i lavoratori della TNT FedEx di Piacenza, 150 lavoratori, di cui la multinazionale ha buttato fuori da un giorno all'anno. La TNT FedEx di Piacenza, 120 lavoratori, di cui la multinazionale ha buttato fuori da un giorno all'anno. Grazie.